Vi abbiamo raccontato una provincia che ha sofferto, una provincia che ha resistito, vi abbiamo raccontato una regione che lentamente è cambiata, vi abbiamo raccontato un territorio che comunque ha dimostrato che è possibile farcela, vi abbiamo raccontato un territorio che lentamente ha anche saputo vincere. Benvenuti all'anno quarto, puntata numero 158 di Porte Aperte, ultima di questa stagione. Il nostro Danilo Costanzo è riuscito a convincerla. I nostri ospiti lavora per lo Stato dal 1981, tra le altre cose ha contribuito alla costituzione dell'ufficio concorsi della Polizia di Stato, pochi lo sanno ma è tra gli artefici della creazione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Viste le sue capacità organizzative nel 98 viene inserita nel pool che crea la Polizia Postale e dal 30 dicembre scorso è prefetto di Frosinone, benvenuta a Sua Eccellenza Emilia Zarrilli. È stato direttore dello stabilimento Motta a Milano, del pastificio Amato di Salerno, della Nestlé di Ferentino. È stato presidente della provincia di Frosinone che oggi amministra su incarico del governo con i poteri di commissario straordinario. Benvenuto al presidente Giuseppe Patrizzi. Buonasera a lei e ai veri spettatori. Ha fatto il camionista e il fornaio, poi ha aperto un negozio, alla fine non ha svolto nessuno di queste tre professioni. Ha fatto l'attore, sognava Alain Delon e i suoi personaggi belli e tenebrosi, ma alla fine non ha interpretato nessuno di loro. Faceva ridere e questa è stata la sua fortuna. Tra poco festeggia i 40 anni sulle scene. Benvenuto a Maurizio Martufello. Buonasera. La linea SMS è per partecipare a questa trasmissione con le vostre domande, per commentare quello che state ascoltando, per proporre quesiti per i nostri ospiti. 331 12 456 25. 331 12 456 25. Nessun costo aggiuntivo a quello del normale messaggio. E anche in quest'ultimo numero vi dobbiamo dire grazie perché sono usciti ieri i numeri dell'Auditel, l'istituto che rileva a livello nazionale gli ascolti di tutte le televisioni, quelle nazionali e quelle locali. Ancora una volta, grazie a voi, Teleuniverso è stata la TV più seguita in tutto il territorio del Lazio. Anche nel mese di maggio 2014. Grazie per essere stati al nostro fianco anche questa volta. Eccellenza, sei mesi vissuti intensamente. Mi dica la verità, la provincia di Frosinone è stata meglio o peggio di quello che si aspettava? Innanzitutto i mesi sono cinque ma questo non fa la differenza. La provincia di Frosinone innanzitutto preciso, ho scelto di venire a Frosinone, nessuno mi ha mandato forzatamente. Quindi sapevo a cosa andavo incontro e sapevo di trovare una provincia difficile da gestire. Però devo dire che sotto alcuni aspetti mi è apparsa naturalmente diversa da quello che pensavo. Difficile perché? Sapeva che non sarebbe stata una passeggiata, ma per chi? Innanzitutto perché è una provincia grande, 91 comuni da gestire, 91 teste di sindaci da gestire, particolari molti di loro, non è una cosa semplice. E poi è una provincia intermedia tra Campania e Lazio, tra Campania e Roma, quindi con tutte le peculiarità dei grandi problemi della grande città vicina che si riversano e dei problemi difficili della limitrofa Campania che inevitabilmente si riversano nella parte sud. Una provincia di passaggio, una provincia che in sé ha tante contraddizioni che appaiono palesemente tutti i giorni in cui si lavora. E sono delle contraddizioni forti, anche di differenza, chiaramente il dato che io leggo è il dato più che altro da un punto di vista di ordine e sicurezza pubblica. Quindi diversi sono i dati dal sud della provincia, da quelli del nord. Però in tutta la provincia ormai il dato emergente è quello di un problema forte di mancanza di lavoro che si riversa inevitabilmente su quelli che sono i reati predatori e quindi un lieve aumento, ma soprattutto nell'efferratezza delle cose, non dandone i numeri, quando nei tentativi. Devo dire che le risposte che abbiamo sono messe in campo, le risposte di uomini, di organizzazione, di attenzione verso il territorio danno delle risposte positive perché i dati numerici ci danno conforto. Lei giustamente pone l'accento sul fatto che c'è questa grande crisi nel tessuto industriale e imprenditoriale di questo territorio. Di fatto questo, lei ci dice, ci sta portando a dei numeri che, vada sì, quando c'è crisi, quando c'è difficoltà aumentano quelli che le chiamano i reati predatori. Quindi ci sono più furti, ci sono più scippi. Di fatto però lei è preoccupata oppure, guardando in prospettiva, pensa che la situazione possa migliorare? Il prefetto come compito principale nell'ottica dei più è proprio la gestione dell'ordine della sicurezza pubblica. Da questo punto di vista i numeri non sono così preoccupanti, ma quello che impegna di più il prefetto su questo territorio, almeno per l'esperienza vissuta intensamente in questi mesi, è proprio essere interlocutore preliminare e principale di quelle che sono le crisi aziendali. Non immaginavo di dover aprire tanti tavoli tecnici di lavoro per le compensazioni, per le richieste di cassa integrazione, per la mediazione con Equitalia, per fare in modo che le imprese possano parlare con i lavoratori, i lavoratori possono parlare con il Ministero del Lavoro, i sindacati tra di loro possono intendersi, è un continuo essere lì a dialogare. Tanto è l'esercizio dialettico che bisogna mettere in campo. Molti sforzi su questo fronte senza ottenere dei risultati precisi. All'inizio sono stata anche un po' fortunata, ho insistito molto e ho ottenuto qualche risposta con immediatezza. questo ha fatto creare anche molte aspettative, non sempre può andare così bene. A volte il Ministero del Lavoro ci ha dato delle risposte anche in giornata, dalla mattina al pomeriggio. I lavoratori hanno avuto un'illusione, ma ci è andata bene. Noi insistiamo sempre allo stesso modo, ma non possiamo sperare di essere sempre quelli che arrivano per primi rispetto anche alle altre province che fanno le stesse richieste. Eccellenza, noi siamo in un periodo di spending review, in un periodo che a noi che piace l'italiano preferiremmo chiamare di razionalizzazione e di riordino delle cose. I tempi cambiano, il Paese si gestisce in maniera diversa, ci sono le tecnologie che ci consentono di fare le cose in modo diverso. Va da sé che c'è un dibattito aperto, la soppressione delle province, la soppressione di una serie di uffici dello Stato che si trovano nelle province. Siamo alla vigilia di un Consiglio dei Ministri che potrebbe decidere una nuova razionalizzazione. Quanto sono importanti gli uffici della Prefettura, della Questura su un territorio? Perché non dimentichiamo c'era un piano, che ci portiamo avanti dall'epoca del governo Monti, che prevede che questa provincia e questi uffici qui su questo territorio spariscano. Soltanto ieri abbiamo avuto una riunione col sindacato dei prefetti a Roma, dove è intervenuto anche il nostro Ministro dell'Interno, il quale come altri soggetti istituzionali importanti hanno ribadito il grande lavoro fatto dalle prefetture, il grande impegno, la grande costanza, l'eterna reperibilità di giorno e di notte e tutti hanno detto che le prefetture sono indispensabili. Questo noi non possiamo dirlo noi, è il territorio che dovrebbe dirlo. Io per quello che posso operare qui vedo che è veramente sempre più urgente e sempre più persone si rivolgono a noi. Però se qualcuno ci dovesse dire di farci da parte per fare altro, noi da bravi servitori dello Stato lo facciamo. Ma non pensiamo che con la Spend Your Review possiamo portare dei risultati diversi. I risultati li dobbiamo mettere al centro di tutto il nostro operare, il cittadino. Al cittadino una prefettura, un servizio più vicino è quello che il cittadino si aspetta e quello che noi dobbiamo offrire. Io di Spend Your Review guardi ho un po' come dire, sembra una cosa un di più, perché io ho ragionato sempre con il raziocinio dell'operato che abbiamo fatto. Non ho mai fatto spese eccessive nei miei anni di lavoro, sono stata sempre attenta allo stesso modo. Quasi in qualche modo non la respiro questa Spend Your Review, se non nei cambiamenti ordinamentali, perché negli uffici non è cambiato molto, io dico. Se uno è sempre attento dal primo giorno che è entrato in amministrazione e sta attento nelle piccole cose, nell'osservare e nel fare osservare anche al proprio personale il giusto orario di servizio, le giuste cose, essere presenti, ma non con un controllo repressivo, ma semplicemente con un controllo vicino per dire cosa fate, mi interesso di quello che fate, ci state, operate, perché siete lenti, perché rispondete al telefono, perché fate così e così è un continuo rapporto di costante vicinanza col proprio personale e questo dà un frutto maggiore che è l'efficienza. Io dico che con la Spend Your Review bisogna rispondere solo con una maggiore efficienza sul territorio. Questa è la risposta che il cittadino vuole, questa è la risposta che noi dobbiamo offrire. Commissario Patrizzi, ma quando apriremo il quinto ciclo di A Porte Aperte, il prossimo settembre, ma lei ci sarà ancora, la provincia di Frosinone ci sarà ancora? Ma io mi auguro di sì, sto portando avanti questo lavoro, come lei sa, direttore, con un attaccamento al territorio molto forte, come sono abituato a fare. ovviamente poi li faccio tanto per correttezza e per professionalità nei confronti degli ascoltatori, li devo rifare un po' il curriculum, 5 sono le aziende che ho diretto, c'è un po' di confusione sui nomi, poi li fornerò, quindi il pastificio non era male, è un altro grande pastificio, ma questa è solo a titolo di cronica proprio per rispetto e per serietà anche perché poi sono abbastanza conosciuto. Faccio pubblica ammenda. Penso di esserci ancora per il momento fino al 31 dicembre, io mi auguro che le province ci sia un ripensamento da parte del governo perché ritengo, come ho detto altre volte, non voglio ripetermi più volte che questo è un grave danno, io sono per la razionalizzazione e la spendere io nessuno me la deve insegnare perché vengo dall'industria privata, da grandi multinazionali, è il Vancello la mattina alla Cappella Sistina del Papa, quanto si entra il factoring costing, quindi lo sto applicando anche in provincia, tanto che in un anno e mezzo abbiamo tagliato, certificati e abbiamo fornito i dati a tutti circa 3 milioni e 6, questo ci ha consentito di fare una serie di lavori sul territorio, non dimentichiamo che abbiamo aperto i lavori per tre palestre, cosa che non si facevano più da tempo, abbiamo messo in cantiere molte strade provinciali, nonostante che l'Astra non ci dia più una lira, proprio grazie alla spendere, grazie all'efficienza che siamo riusciti a creare e a tagliare i costi inutili, quali i fitti, ma soprattutto ristabilendo all'interno l'avvocatura e quindi non rivolgendosi più a consulenti perché sui consulenti abbiamo costo zero, io ritengo che il governo si dovrebbe preoccupare più di una sana amministrazione a tutti i livelli, a partire dallo Stato, dalle regioni, dalle province e così anche ai comuni e non ci sarebbe assolutamente, ci sarebbe soltanto bisogno di razionalizzare, perché sono sempre convinto che non servono un Parlamento così abbastanza forte, sono convinto che non servono 21 regioni, ma che si possono unire alcune regioni e sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo regioni da 250 mila abitanti, sono convinto che 107 province non servono, anche perché ne abbiamo fatto 30 all'altro ieri, o abbiamo sbagliato ieri o abbiamo sbagliato oggi, bisogna capire chi governava in quel momento e sono convinto che 8300 comuni, anche lì si può razionalizzare, da un conto perché io sono pure uno molto abituato ai conti, io parlo sempre di cifre, non parlo mai politichese perché poi si può dire tutto e il contrario di tutto, ma la matematica non è un'opinione, i numeri sono numeri, io dico che se c'è una razionalizzazione a tutti i livelli ci escono forse 4 finanziari, questo è il governo dovrebbe ragionare, come non sono d'accordo nella soppressione delle prefetture, perché la prefettura è poi quello che rappresenta il governo, la legalità sul territorio, l'ordine pubblico e quant'altro, ma sono per la razionalizzazione a tutti i livelli, questo è il governo quello che dovrebbe fare, probabilmente dovrebbe prendere più manager che sanno fare bene i conti e dimostrano su carta, non con le chiacchiere, che eliminando la provincia ci sono circa 2 miliardi di euro in più di costi e così come eliminando prefetture e quant'altro perché i costi vanno ad aumentare. Io ho già una marea di messaggi, io le ho detto che nonostante che stiamo attraversando un periodo socio-economico, non parlo solo della provincia di Frosinone, noi ci interessiamo a questo territorio, ci dobbiamo interessare del Paese Italia e dell'Europa intera, è un periodo di oscurantismo forte per toccare un pezzo, un angolo di storia della letteratura italiana voglio dire, perché stiamo attraversando un periodo, però ci sono, se tutti ci rimpocchiamo le maniche, se riusciamo a fare un'azione sinergica, lavorare tutti insieme in Paese Italia, voglio dire, noi nella provincia di Frosinone con l'altra provincia, io ritengo che abbiamo tutte le intelligenze e le esperienze e la volontà e la capacità di poter lanciare, l'abbiamo dimostrato già in qualche settore, lei sa bene direttore, come lo sanno i cittadini, anche con tanto scetticismo abbiamo portato avanti dei progetti, ne stiamo portando avanti degli altri, come quello del nostro patrimonio storico e culturale, lo presenteremo a breve alla comunità europea, alla regione, perché non vogliamo perdere l'appuntamento del 2014-2020, Horizon 2020, non vogliamo fare la fine del 2007-2013, quanto siamo riusciti a perdere il 33% sul turismo, il 42% sui fonti pori, fonti strutturali, dobbiamo fare dei progetti canterabili perché le opportunità ci sono, si tratta dell'intelligenza e delle capacità. C'è una marea di messaggi, ma prima non posso non domandare a Martù. Volevo solo direttore, l'interrompo, io voglio fare i complimenti e mi voglio congratulare a 40 anni di attività del grande maestro Marto Fello, sono 40 anni oggi, mi fa enorme piacere, sono legato a lui da una grande amicizia, come voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, sia per la fattiva collaborazione che ho quotidianamente, perché le istituzioni devono collaborare e soprattutto per l'impegno che mette per il nostro territorio. Marto Fello, 40 anni di spettacolo, ma insomma in genere ci sono quelli che annoiano molto prima, come si fa invece ad arrivare a 40 anni e a stare ancora sulle scene ma soprattutto a continuare a far ridere? Con la semplicità, con la naturalezza che mi porto dietro da sempre, dal paese, dalla provincia e da tutto quello che mi ha dato questa terra, insomma capito? Come verranno celebrati questi 40 anni e dove? Allora, l'11 luglio a Sezze, è venerdì, non ci sono le partite perché il mondiale quel giorno si blocca, 9-40 anni viene, si blocca perché è riposo, il sabato c'è il terzo quarto posto e il 13 c'è la finale che è domenica, quindi allo Stadio di Sezze è aperto a tutti, ingresso libero, è una serata importante, bella perché sono tanti colleghi che vengono e si esibiscono, verrà Manuela Villa, verrà Mattioli, Zamma, Frisi, Battagliammi Seferi, Marconi, insomma vengono tutti questi amici che mi hanno accompagnato per tanti anni insomma di questi 40, la serata la presenterà uno che mi ha dato la possibilità di fare 40 anni di carriera che è pingitore, l'altra presentatrice è Pamela Prati e ci saranno tanti e tanti altri ospiti che non sto a dire perché sai poi i grandi ospiti è capaci che all'ultimo momento capita una cosa e non si può. Allora vediamo gli sms perché ce ne sono tanti e tutti gustosi, 331 12 456 25 e continuate a mandarli, vediamo una prima selezione, buonasera signor prefetto, sono un liceale, cosa pensa del senso civico dei cittadini di questo territorio? Per il Presidente Patrizzi l'accordo di programma non sta portando quella carovana di investitori che si attendeva, è deluso? Martuffello perché il bagaglino è finito? Una volta esisteva il mito della ciociaria terra sicura, oggi le rivelazioni dei pentiti dicono che era una illusione, quanto siete preoccupati? Martuffello dica la verità c'è o ci fa? Le strade provinciali sono ridotte a Colabrodo, che fine hanno fatto i soldi che la Regione doveva mandarci? Grazie per le risate che mi hai regalato in questi 40 anni. Patrizzi adesso noi lavoratori ex multiservizi ci devi aiutare. Buonasera, volevo sapere se Martuffello ti fa latina o frosinone? Chiede Francesco Daceccano, è la più insidiosa questo. Martuffello è uno straordinario talento comico, peccato che negli ultimi anni lo si veda poco in tv. Presidente Patrizzi la seguo sempre con molta attenzione, ho notato il suo grande dialogo con tutti i sindaci del territorio, ciociaro, cosa che prima non avveniva mai. Volevo chiederle a che punto sono i lavori per il contratto di fiume, chiede Giulia D'Averoli. La prefettura è l'unico ufficio che non serve, la nostra provincia non ci sta dando nulla se non è capace di dare lavoro a noi giovani e di ridarlo a chi lo ha perso e non tutti gli amministratori dei nostri comuni sono da prendere come esempio. È meglio sorridere ed affidarci al grande lavoro di comici come Martuffello che ci fanno ancora vedere la vita con umorismo e gioia. Spettatrice ciociara. C'è amarezza, c'è delusione ma soprattutto c'è quello che diceva anche il prefetto, c'è il rischio che ci siano poi troppe aspettative e ci si aspetti qualche cosa da chi poi non ha la competenza per crearlo. Ad esempio viene criticata la provincia per non avere creato i posti di lavoro ma non è la provincia a creare i posti di lavoro, non è la prefettura a creare i posti di lavoro. Non di meno però a questa delusione va data una risposta Presidente. No, io do una risposta subito su due cose. Uno sull'accordo di programma, io devo dire e ribadisco a tutti che su 148 domande in Italia ne sono passati tre e sono stato al Ministero, do qui il verbale che abbiamo fatto il giorno 3 e ci rivedremo subito alla fine di giugno dove stabiliremo una graduatoria e devo dire che sono tutti soddisfatti dal Ministero, Regione, Provincia e Infitalia perché ci sono 181 milioni di euro di investimenti e non è poco, cosa che alla Merloni, purtroppo mi dispiace, non è che questo voglio gioire, purtroppo l'accordo di programma non è andato così come si voleva e quindi non ha raggiunto. Ricordiamo solo una cosa, accordo di programma è quello strumento che è stato messo in campo con molta abilità, va riconosciuto da questo territorio, da chi amministra questo territorio, intorno al tavolo c'erano praticamente tutti, quindi sindacati, amministratori pubblici, imprenditori, tutti intorno a questo tavolo e solo tre di questi accordi di programma a livello nazionale sono passati, uno dei tre è quello che è stato messo a punto in provincia di Frusinone. Cosa è l'accordo di programma? È un impegno assunto da tutti quanti a mettere in campo delle politiche per creare nuovi posti di lavoro, lo Stato, la Regione, l'Unione Europea ci mettono, ci diceva il commissario, oltre 181 milioni di euro certificati. Solo una parte sono soldi cash, cioè sono soldi in contanti perché altrimenti ci potrebbe essere il rischio di perdere di vista una parte come spesso accade, in che modo vengono dati questi 181 milioni? Attraverso degli strumenti di ingegneria finanziaria, in pratica chi investe automaticamente, ad esempio non dovrà pagare tutti gli interessi e le banche perché interverranno questi soldi che abbattono il costo dell'investimento, quindi chi davvero vuole investire ha questi 181 milioni di euro a disposizione del territorio. Ci diceva il Presidente Patrizio, infatti si sta per fare questa graduatoria, quante sono le interesse? Sono quattro grosse multinazionali, ma quello che è importante, che conosciamo già il nome, ormai lo possiamo dire che è di dominio pubblico, è la Sanofia Ventis, è la Dobfar, è un pool ex Maranconi, come è l'Automotive, quindi sono quattro grandi multinazionali che insistono sul territorio, in particolare la Sanofia Ventis, una dei leader nel campo della farmaceutica e dove c'è questo investimento di circa 181 milioni di euro. È una cosa, penso, irripetibile perché effettivamente bisogna ritornare a 30 anni con la cassa del mezzogiorno, di mettere in piedi uno strumento e soprattutto sono soddisfatto sia per la quantità, il volume di investimento che c'è, la graduatoria la fa in Fitalia e a fine mese sarà pronta e poi si partirà, quindi tutto questo deve ultimarsi entro il 31 dicembre del 2017, questi sono i tempi, ovviamente per vedere i posti di lavoro bisogna vedere i piani industriali, sono abituato su questo certamente a non illudere nessuno, ma sono abbastanza significativi dal primo screening che noi abbiamo fatto, quindi ritenco che abbiamo fatto una buona azione ma non ci dobbiamo fermare qui perché sulla scorta di questa iniziativa che brillantemente abbiamo portato in porto e qui poi si innesca anche l'altro strumento che abbiamo messo in piedi con la Regione Lazio, i fonti FEG e quindi c'è stato già i centri per l'impiego, la prima scrematura, il primo colloquio attitudinale per i 1100 lavoratori della VDC, passeremo alla seconda fase, la terza fase, adesso attraverso poi quelli che sono i profili delle aziende, quindi anche qui ci sono 6 milioni di Euro che stiamo investendo con i centri di l'impiego di Comunaccordo Provincia, Centri di l'impiego Regione Lazio che andremo a riqualificare tutti i lavoratori della VDC perché non dobbiamo dimenticarci che costituisce un'azione premiante e soprattutto sotto di quella soglia previa esclusione che devono essere riassorbiti il 25% dei lavoratori della VDC e così poi anche a... Eccellenza, c'è un SMS che diceva la Prefettura è l'unico ufficio che non serve. Allora, mi hanno colpito i due messaggi, uno perché ci è arrivato da un ragazzo giovane che chiede se c'è il senso civico su questo territorio e se se lo chiede forse il problema esiste e l'altro, insomma, diciamo che mi ha incuriosito un po' di più, vorrei invitare questa signora o signora che ha mandato questo messaggio a un giorno in Prefettura, insomma, così da fare un'esperienza insieme a noi dove non c'è mai una programmazione di una giornata uguale all'altra perché ogni giorno arriviamo in ufficio e gli imprevisti sono all'ordine del giorno. Forse è il signore che ha mandato questo messaggio e la Prefettura non la conosce neanche da lontano. A Frosinone è un po' difficile, visto che il palazzo è un po' appariscente, insomma, lì sopra. Ma forse sa che il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, forse sa che il Prefetto è il coordinatore degli enti locali, forse sa che ha gestito le elezioni, forse sa che facciamo i tavoli tecnici per le attività lavorative, forse sa che non fa notizia perché tutto ha funzionato probabilmente. E soprattutto perché il Prefetto, non avendo bisogno di nessun consenso, non esce fuori allo scoperto a dire che l'elettorale è andato tutto bene grazie a un apparato che ha funzionato, grazie al fatto che in Prefettura tre notti di seguito siamo stati sempre con le luci accese e a tempo pieno, perché forse è l'unico ufficio, insieme agli uffici di polizia, dove la reperibilità è H24, il Prefetto dorme in Prefettura perché è reperibile giorno e notte costantemente e ora se il mio telefonino è stato dato in mano a qualcun altro che sta fuori, perché se arriva una telefonata e oggi ci sbarcano altri immigrati, arrivano 24 immigrati nel giro di tre ore, solo i Prefetti riescono a sistemarli in qualche modo, ma noi è preferibile non dirlo, soprattutto per non allarmare il territorio. Abbiamo l'obbligo istituzionale di sorridere di fronte alle emergenze che quotidianamente affrontiamo, siano esse frane, siano esse calamità naturali, siano esse terremoti o quanto dir si voglia, abbiamo una competenza di protezione civile, ci danno competenze aggiuntive senza mai darci risorse aggiuntive e soprattutto non è che noi ci formiamo quotidianamente su fatti nuovi, noi ci formiamo sul campo e questa è la costanza e l'impegno che soltanto facendo le cose, come dire, le affrontiamo, ma soprattutto le affrontiamo con quel senso dello Stato che contraddistingue la mia categoria. Martufello... Quindi, no, no, ribadisco l'invito a chi ha scritto quel... Quindi vale l'invito, si può presentare... L'invito, un qualsiasi giorno in prefettura, insomma. Chiede del prefetto, io sono quello che ha mandato il messaggio a Teleuniverso. Perfetto, un giorno lavorativo da passare insieme a noi, insomma. Martufello, qui c'è un telespettatore che vuole sapere se Tifa, Latina o Frosino. Ma io voglio rispondere a quell'altro che ha detto se ci sono o ci faccio. Perché questo è semplice, se ci sono, ci sono bene, se ci faccio ci ho fatto bene e comunque non so se voleva dire questo, se sono scemo o no, sono tutte e due. Probabilmente, allora proviamo... Allora proviamo a sdrammatizzare la cosa, allora ci sono Burino o non ci sono? Il personaggio che ha portato al successo Martufello è un personaggio che incarna... Non incarna, sono io, il Burino, il Burino, sono io. Vedendolo in giro diciamo che in televisione l'abbiamo visto con il cappello, con le orecchie fuori dal cappello. In realtà in giro lo vediamo invece elegante, con il gessato d'ordinanza, forse è questo che fa venire il dubbio se c'è o ci fa. Sorpassiamo questa cosa. L'altra domanda. No, per farti capire che mi ricordo tutto quello che hanno scritto. L'altra domanda è se Tifa, Latina o Frosinone. Oh, direttore. No, è che c'è il nostro Danilo Costanzo che mi sta segnalando tutta un'altra serie di messaggi che stanno arrivando, ce l'ho nell'auricolare. Praticamente c'era, oltre quello del Latina e della Frosinone, vedo poi tutta un'altra serie di messaggi che mi facevano notare. Ad esempio ce ne sono molti che chiedono sui giovani, ce n'è uno per fare l'attore, basta il talento oppure è importante anche lo studio? Perché negli ultimi anni hanno fatto carriera persone che qualche anno fa non avrebbero fatto nemmeno le comparse. Ma stai tranquillo che quello non fa da nessun posto. Ma il discorso è che studiare, bisogna studiare, ma studiare che cosa però? Studiare a scuola, perché affacciarsi a questo mestiere con la cultura è una cosa, affacciarsi senza cultura è un'altra. Quindi prima bisogna studiare a scuola e poi tentare la scalata a fare l'attore o quello che vuole insomma. Però è un mestiere bello ma bisogna studiare, ma studiare molto a scuola perché io, Alessio lo sa, lui dice no ma non è così. Io dico che se ci andavo io a scuola a quest'ora sarebbe stato qualche cosina in più. Quindi io a tutti i giovani che vogliono fare questo mestiere dico, prima andate a scuola, pegliate un diploma, una laurea. Insomma dovete sapere le cose, dovete avere una cultura o perlomeno un'infarinatura generale su tutto. Allora quando fate l'attore se ci riuscirete lo farete molto meglio. Lei prima nominava il maestro Pingitore che è stato colui il quale era l'anima del bagaglino. Pingitore quanto ha insegnato a un'intera generazione di artisti? Ma Pingitore ha insegnato tanto, tanto. Ma la cosa che ha insegnato veramente Pingitore è la disciplina. Quella è una cosa molto importante per il teatro, per la televisione. La disciplina? La disciplina, sì. Perché è importante la disciplina? Molti pensano che l'attore sia una sorta di prima donna che detta... La prima donna fa a casa sua la prima donna. Gli attori lo fanno a casa loro, lo fanno per strada. Sul palco bisogna essere disciplinati, bisogna essere seri, bisogna essere umili, bisogna sapere... Perché non è tanto studiare. Studiare va bene, ma la cosa fondamentale è sapere ascoltare. È vero che per manifestare il suo rispetto nei confronti di un grande come Oreste Lionello fino alla fine Martufello stava 10 centimetri in vitro. Sempre, sempre 10 centimetri dietro al maestro io sono stato fino all'ultimo giorno che poi ha dovuto smettere lo spettacolo perché dopo un mese insomma è morto. Quindi io ho lavorato 31 anni vicino a Oreste Lionello, a fianco a Oreste Lionello, ma 10 centimetri dietro, sempre. Anche quando dovevo fare il passavanti per dargli una battuta lo facevo, ma si notavano sempre quei 10 centimetri dietro. È vera la storia che lasciò il numero al maestro Pingitore dopo un'audizione, disse guarda io qui vengo anche a stirare le camicie, anche a vuotare i cestini, gli lasciò il numero di telefono che non era quello di casa sua perché a casa non avevi il telefono. Non ce l'avevo, no, ma io non l'audizione perché non ho fatto mai provinio. Era il telefono di dove? Di un ristorante a Sezze, gli disse dottore guarda io con lei farei anche il guardarobbiere, questa è la parola che io gli dissi. E gli ho lasciato questo numero di telefono e tutti i giorni andavo al ristorante senza mangiare e quello mi diceva ma che dobbiamo fare qua? Dico niente, non l'ha aspettato la telefonata. Che non arrivava mai. Passatemi, un giorno, e poi a un certo punto ho smesso di andare, un giorno per caso entro per andare a salutare quel porro di scherziato che tutti i giorni mi dava, dico come stai, tutto bene, squida il telefono e era Pingitore, tu guardarvi, è vera questa eh. Quindi diciamo proprio nel momento in cui mando quella... Che io dopo cinque minuti stavano arrivo a stare telefonata e mi disse è per te. E mi disse allora è vero che vuoi fare il guardarobbiere con me? Dico come, come dottore, subito. Allora vieni alle sei al bagaglino che ti aspetto. E io c'avevo una lira, se cascavo non mi potevo comprare un cerotto, guarda, andare a rimediare cinquanta lire da uno, trenta lire da un altro, cento lire da... Alla fine ho rimediato mille e cinque, mille e seicento lire, seicento lire ho messo la benzina a un mio amico che mi ha accompagnato, sono andato da lì e mi ha scritturato. Tornava a casa con il treno, se però le prove andavano troppo a lungo non avevi il coraggio di dire a Pingitore guardi... Allora questa è le prove, quando si facevano le prove del primo spettacolo che io ho fatto al bagaglino nel 1980, però con Pingitore già avevo lavorato due anni prima nel 78 a un film, il bagaglino si chiamava lo spettacolo Lionel in concert e allora io avevo l'ultimo treno a mezzanotte che partiva dalla stazione Termine e Pingitore alle 11, capito, ancora non finiva, io sembra che guardavo oggi, alle 11 non c'avevo il coraggio di dirgli guardi dottore io ho il treno a mezzanotte, capito, perché mi sembrava un po', capito, a chi se ne frega e lui magari finiva a mezzanotte meno 10, capito, io a piedi non ce la facevo arrivare alla stazione Termine, allora mi facevo accompagnare da qualcuno o con i tram, con gli autobus, molte volte mi ha accompagnato Oreste, Lionello, all'Eur, dove io stavo lì sul ponte all'Eur, a Laghetto, fino a che non arrivavano i camionisti dei, gli insalatari si chiamavano così, andavano al mercato generale a vendere la verdura, no, perché e allora si facevano le tre, le quattro, tornavano a sezza, tornavano a sezza dal mercato generale e qualcuno che mi riconosceva mi caricava e andava a casa, è vero che una volta con Oreste Lionello nella furia di arrivare in tempo alla stazione, è entrato dentro, è entrato dentro con tutta la 500 color crema, dico Oreste, se non c'è di più qua, sto treno lo per, infatti si è sentito un urlo perché è preso il treno per un pelo, capito, è di una battuta. SMS 331 12 456 25 vediamo gli altri quesiti che nel frattempo sono arrivati, il crimine si sviluppa dove ci sono fame e disperazione, quindi ora ne abbiamo in abbondanza, non teme il prefetto che la situazione possa diventare incontrollabile, la provincia ha perso la causa con il dirigente mandato via da Iannarilli, quale eredità le ha lasciato l'ultimo e non rimpianto presidente della provincia, quale consiglio dà Martufello ai giovani che vogliono fare gli attori sul serio? Qui è tutto da rifare, ci vorrebbe la presa della Bastiglia come in Francia. Patrizzi è il presidente di tutti, niente polemiche e stile sobrio, grazie. Dopo 65 giorni in tenda non vi siete mai preoccupati, ex multiservizi, umiltà più serietà, più professionalità, più simpatia, uguale Giuseppe Patrizzi, grande presidente. Ciao Martufello, cosa pensi di questa ciociaria che ami tanto messa in ginocchio? Prima che chiuda la prefettura e la provincia ci sarà la liquidazione del consorzio acquedotti degli aurunci e il pagamento dei propri debiti, lo possiamo sapere adesso dalle autorità presenti o aspettiamo la ripresa della trasmissione? Complimenti al commissario straordinario Patrizzi per come è riuscito a razionalizzare le spese sulla nostra provincia con il suo operato. Il nostro paese vive di grandi problemi, uno è la burocrazia che adottando i nostri politici stiamo molto arretrati, ma a loro politici è tutto facile, non ci sono ostacoli su nulla, un po' ermetico. Ex operaio Videocon, vorrei dire al commissario Patrizzi il contratto di programma, che punto è? Io ho 50 anni fuori dal mondo del lavoro. Caro commissario Patrizzi, ce la facciamo entro tre anni a ripartire? Ringrazio il prefetto Zarrilli per quanto fa per i lavoratori quando viene interpellata dalle organizzazioni sindacali. Risponde sempre positivamente con i fatti, grazie e buon lavoro Giuseppe Di Pede. Eccellenza, insomma non tutti dicono che la Prefettura non serve, lei ha ricordato prima i tavoli che sono stati istituiti, ma qual è il lavoro che vi impegna di più? Non c'è un lavoro che ci impegna di più, quotidianamente siamo impegnati, i fronti sono veramente tanti, insomma. Il punto secondo me è che pochi conoscono la Prefettura, allora l'impegno da quando sono arrivata su questo territorio è proprio quello di aprire un po' le porte della Prefettura per farle vivere alla città e fare in modo che la città possa entrare dentro il palazzo. La festa del 2 giugno, ovvero la cerimonia del 2 giugno, forse è stata la testimonianza ultima di quello che è il mio intento. Ho portato fuori dalla Prefettura quello che è un momento di impegno, la consegna dei titoli di Cavaliere o altro che il Capo dello Stato ha dato a cittadini meritevoli di questo territorio. Ho voluto farlo nella pubblica piazza in modo tale che tutta la cittadinanza abbia potuto sapere di questa cosa. Oppure la cerimonia istituzionale del 2 giugno con l'alza bandiera sulla piazza e con la discesa della bandiera tricolore fatta dai vigi del fuoco con i fumogini tricolori. Credo che sia stato un bello spettacolo. Dovunque vado tutti quanti hanno detto che non hanno mai ricordato un 2 giugno così coreografico. Il che fa piacere significa portare un segnale di novità, un segnale di attenzione e un segnale che deve portare la cittadinanza vicino alla Prefettura a vedere, a godere e a sentire il senso dello Stato anche attraverso queste manifestazioni che non devono essere retorica, devono essere veramente un nuovo sentire collettivo verso uno Stato centrale che è uno Stato vicino, che è uno Stato amico. Per questo io rispondo sempre le porte della Prefettura sono sempre aperte. Anche la cerimonia che faremo venerdì sera è una testimonianza. Le stelle al merito del lavoro. Ne parliamo tra un attimo e parliamo anche di molti servizi perché dobbiamo dargli una risposta. Telegraficamente, visto che stiamo per chiamare la pubblicità, Martufello c'era un sms che diceva ci vorrebbe la presa della bastiglia. Come commenta? Quindi dalla bastiglia si entra a me. Basta che c'è sta l'acqua, uno si può prendere qualsiasi se bastiglia. E quante bastiglie ha preso in questi anni? Guarda io prendo talmente tante bastiglie che se rifiato non faccio uno o guarisco. Pubblicità, il tempo di qualche spot e torniamo insieme con i vostri messaggi e con le risposte dei nostri ospiti. Non vi muovete. Seconda parte di A Porte Aperte. Presidente Patrizzi, rimproverano gli ex lavoratori della multiservizio di Frosinone. Dopo 65 giorni in tenda non vi siete mai preoccupati. Un altro messaggio diceva, Patrizzi adesso noi lavoratori ex multiservizi ci devi aiutare. Sì, le dico subito, anche perché li ho incontrati proprio oggi, quindi ho avuto modo dieci minuti di scambiare quattro parole proprio lì nella tenta della piazza del comune, quando sono uscito perché sono andato per i siti inquinati e sono sceso e mi sono fermato a parlare con loro. Io ho visto due messaggi che destano interesse. Primo su il licenziamento del dirigente. Allora io le dico direttore, ma così lo voglio dire chi mi conosce a tutti i telespettatori, che nella mia vita pur avendo gestito 5 stabilimenti non ho mai licenziato nessuno. Questa è storia. Perché ritengo che quando si crea un clima sereno e disteso all'interno di un ente, di una fabbrica, di un ufficio pubblico, l'efficienza, non lo dico io, incrementa del 15-20%. Queste sono le più grandi agenzie di organizzazioni del lavoro che lo dicono, bisogna creare un clima. Io su quel dirigente che parlo del licenziamento, certamente non l'ho licenziato io, ma anzi l'ho rintegrato dopo una settimana che mi sono insiedato in provincia, tanto è vero che l'ente non deve pagare assolutamente niente di progresso perché l'avevo già rintegrato, perché non c'erano i presupposti, secondo me, poi l'ha detto anche la magistratura, che ho pieno rispetto, tanto di quadampiato per il lavoratore e per il dirigente. Sulla multiservizi, sulla multiservizi io devo due cose che dico sempre, intanto gli lavoratori sanno che se queste tavole in piedi io mi sono prodigato fin dal primo giorno per trovare una soluzione e mi sto prodigando ancora adesso. Certo che la situazione non è proprio facile, non è rosa, intanto si sono accumulati 8 milioni di Euro di perdita, cosa che in una sana gestione non devono più verificarsi, però si è verificato, i poveri lavoratori non hanno nessuna colpa, voglio dire, la colpa è di chi è gestito, perché io mi domando, visto che ho sempre gestito aziende, come si fa a perdere 8 milioni di Euro e non ne accorgersene, questa è la domanda e questo l'ho posto agli assessori, l'ho posto ai lavoratori, l'ho posto a tutti, ma questo ovviamente non è che deve essere il fatto che siccome sono stati persi 8 milioni, non troviamo la soluzione, la soluzione va trovata, va trovata perché sono 300 lavoratori che sono in mezza una strada e ovviamente la soluzione che noi abbiamo prospettato e ci stiamo lavorando sopra, perché bisogna superare una serie poi di leggi che sono abbastanza non chiare come la riassunzione che ci stiamo lavorando su questo, perché sulla Corte di Conti bisogna anche verificare un tantino quanto le società in out sono in perdita, andrebbero liquidate, ci sono una serie di fattori che noi stiamo lavorando e ci stiamo lavorando forte, ci sto lavorando io, ci sta lavorando il Comune di Frosilone, ci sta lavorando il Comune di Alatri, ci sta lavorando la Regione, devo dire in perfetta sinergia, anche se all'inizio c'era un qualche cosa che di affinare, oggi siamo in perfetta sintonia, noi dobbiamo rivederci e anche vedere questo quadro degli 8 milioni di Euro che sono stati messi a disposizione da un conteggio fatto da quello che è il liquidatore, abbiamo eccepito qualche cosa per esempio come 1 milione e 100 mila Euro di eventuali contenziosi che andremo a perdere, questo non si mette perché non si è ancora verificato, quindi non sono… Con lei quali potrebbero essere i tempi? I tempi secondo me da quello che ne ho parlato anche l'altro giorno, approfittando per Regione per altre questioni, ci dovremmo vedere nel giro di un paio di settimane e su questo poi dobbiamo trovare per forza una soluzione. Intanto c'è una TN Cronos che può interessare il prefetto, visto che prima toccava l'argomento, nel porto di Pozzallo nel Ragusano è arrivata la petroliera danese che ha soccorso l'imbarcazione con 300 migranti tra cui 58 donne e 28 bambini, lei prima diceva noi dormiamo con il telefono sempre a portata di mano, dormiamo in prefettura perché dobbiamo essere reperibili 24 ore su 24, con questi continui arrivi quanto la vostra macchina organizzativa è stata messa alla prova? Perché anche se sbarcano a Ragusa comunque spesso Frosino ne viene allertata. Soltanto ieri il prefetto di Roma diceva che un sindaco del sud gli ha fatto arrivare senza averlo neanche avvertito 150 immigrati da una città capologo del sud, quindi dover gestire con improvvisazione, noi cerchiamo di non improvvisare, siamo pronti a tutto per ogni evenienza ma non so fin quando reggeremo perché mediamente a giorni alterni ci arrivano una media dei 20 immigrati al giorno e soprattutto arrivano alla notte, all'una e mezza di notte a Fiumicino, noi cerchiamo di collocarli nel migliore dei modi possibili che significa nel modo più sicuro affidandoci a organizzazioni che ci danno certezze e garanzie insomma senza andare oltre perché non possiamo nasconderci che questo per molti, per molte organizzazioni neanche un affare da perseguire, anche se i pochi soldi che oggi diamo non sono più affascinanti gli affari come erano una volta, perché una volta quando tutto il problema era affidato alle regioni, le regioni sono arrivate a pagare fino a oltre 80 euro al giorno per immigrati, oggi noi con 25 euro massimo 30 dobbiamo gestire una situazione omnicomprensiva, significa dare anche un minimo all'immigrato per consentirli di telefonare o di fare il tutto, il che non è semplice e controlliamo anche che l'immigrato sia in condizioni possibilmente non dico ottimali ma nel migliore dei modi possibili, che ci sia il rispetto della persona in umana in ogni situazione e poi cerchiamo di favorire l'integrazione soprattutto linguistica iniziale, ma molto spesso dobbiamo dire che se ci arrivano gli eritrei che sono quelli che con più facilità stanno arrivando, arrivano, passano e vanno via e quindi sotto alcuni aspetti liberano gli altri posti e siamo immediatamente pronti a riprendere il discorso insomma, perché ormai l'Italia è diventata una terra di passaggio e questo almeno per determinate etnie. Eccellenza, si parla troppo? Sì, su questo territorio sa cos'è l'occhio di chi viene da fuori, ci sono tanti enti, tanti soggetti istituzionali con i quali dover interloquire per arrivare a un tentativo di soluzione di un problema insomma e se si parla in troppi poi si opera un po' di meno. Allora le energie dialettiche che bisogna esercitare per arrivare a un punto finale sono veramente tante, io sono abituata a essere molto più pragmatica, dato un obiettivo, non mi dovete dire il tecnicismo del sistema, non è quello di mia competenza, io devo raggiungere l'obiettivo, possibilmente nel minor tempo possibile, mi caratterizza questa cosa e quindi quando intorno a un tavolo ci siamo non bisogna chiedere ancora un altro, ancora un altro, io vorrei che ai tavoli di lavoro ci fosse qualcuno con capacità decisionale e questo si ottiene sempre poche volte insomma, perché la capacità decisionale ti consente di dire io posso fare questo fino a questo punto, un altro ente può fare questo fino all'altro punto e diamo la soluzione al problema, perché quando sono arrivata, era ancora a gennaio, mi sono arrivati i rappresentanti della Fiat in ufficio e mi hanno detto caro prefetto non sappiamo a cosa è andato a fare marchione del stabilimento di Cassino, però se ci mette in condizioni di operare in un territorio minimamente salvaguardato da un punto di vista di strade, da un punto di vista di sicurezza, noi forse ce la faremo a riportare la Fiat operativamente su questo territorio. Da qui una serie di tavoli tecnici ancora una volta, non si è ancora operato ma qualche risposta l'abbiamo ottenuto, ma proprio il 28, forse il 27 di gennaio mi hanno fatto questa proposta, io chiedevo i primi di febbraio il tavolo tecnico, ancora oggi non c'è stato l'avvio, ma grazie anche alla provincia un progetto a costo zero si è riuscito a fare e forse la Regione ha dato anche qualche risposta ritenendo che visto la provenienza della richiesta, cioè l'importanza del tavolo istituzionale da cui era arrivata questa richiesta, mettevano in campo quel minimo di sforzo aggiuntivo che va fatto, perché la Fiat non è solo la Fiat, è tutto l'indotto e per questo territorio è una risorsa che non aspetta certamente a me dire l'importanza di questo, ma questo è solo uno dei tanti esempi. Martufello, ma hai pensato di diventare prefetto? Diventare prefetto magari ci vuole un po'. No, teoricamente tutti possono diventare prefetto. No, che tutti, non è vero che tutti possono diventare tutti, se no qua stavamo rovinati tutti quanti, ci muzzicavamo un bacio all'uno con l'altro. Perché teoricamente? Per una nomina governativa? Essendo una nomina governativa possono decidere di nominare tutti, in linea di massima nominano solo quelli di carriera che sono entrati con un pubblico concorso e lungo una strada, a volte più lunga, a volte meno lunga, arrivano a un punto finale. Per quanto tutti possono essere nominati, non tutti sono in grado di fare il prefetto. Assolutamente sì. Martufello, ha mai pensato di fare politica? Cosa pensa dei comici che fanno politica? Ma io alla politica non ci ho mai pensato e i comici che fanno politica evidentemente… Ma tu intendi Grillo naturalmente che… Ma così? Grillo ha fatto sempre la politica, secondo me è il politico da rottamare più di tutti a lui, perché lui gli ultimi vent'anni anche nelle serate, negli spettacoli, grande artista naturalmente, ha sempre fatto questo Grillo, quindi quando lui parla quello a casa, il politico più vecchio di tutti è lui secondo me. Quindi l'ha fatto da sempre. SMS, ce ne sono tantissimi, ci dice dalla regia Danilo Costanzo, 331 12 456 25. Allora vediamo quali sono gli altri messaggi arrivati nel frattempo. Complimenti al commissario Patrizzi per l'impegno profuso per la nostra provincia, già nel consiglio provinciale ed ora come commissario. Continui così, dice Laura. Viene a chiedere a Renzi se ce lo fa fare. Sua eccellenza, non è sempre vero che le istituzioni sono vicine al cittadino. Vorrei avere l'opportunità di parlare con lei. Come devo fare? Tutti gli amministratori degli enti pubblici dovrebbero avere un curriculum come quello di Patrizzi. La differenza, anche rispetto ai suoi predecessori, si vede. Grazie di tutto, presidente, scrive Franco. Sono una ragazza di Frosinone e, al contrario della mia concittadina, che sostiene che le prefetture non servono sul territorio, voglio ringraziare Sua Eccellenza il prefetto Emilia Zarrilli, che in soli 5 mesi ha portato Frosinone tra le alte istituzioni e il primo e unico prefetto che per dirne una ha reso la prefettura luogo di festa per tutta la cittadinanza nel giorno delle celebrazioni del 2 giugno. Patrizzi, grazie per il lavoro che hai fatto e continui a fare nonostante l'annunciata fine delle province. Ti rimpiangeremo e soprattutto rimpiangeremo le province. Bisognerebbe tagliare altrove, a partire dai parlamentari e dagli sprechi nella pubblica amministrazione. Complimenti al direttore Porcu per la dedizione e l'impegno che mette nel trovare i giusti argomenti da trattare al fine di rialzare la nostra economia. Patrizzi ha parlato di cause di lavoro e di lavoro. Mi auguro che dopo il disastro provocato da Iannarilli, chiuda la spinosa situazione dei lavoratori stabilizzati dell'Agenzia Frosinone Formazione. Non ci deluda. Martufello, se ci fosse stato ancora il bagaglino, avrebbe portato in scena il presidente Patrizzi facendogli fare Holland grazie al prefetto Zarrilli per la sensibilità e l'interessamento mostrato alla questione relativa al decreto CIGS, Casa Indicazione Straordinaria per i dipendenti Marangoni. La sistema Compositi si è fermata davanti ad un cancello. Un'azienda non può morire anche per burocrazia. Seguite la vicenda e vi indignerete. Buonasera a tutti i presenti. Vorrei far sapere al prefetto e al commissario straordinario di seguire la sistema Compositi se vogliono divertirsi. Non serve neanche Martufello per ridere. Alla fine Martufello non mi ha risposto. Latina o Frosinone? Per chi ti fa? Grazie presidente Patrizzi per l'attenzione che rivolgi alle scuole della nostra provincia. Signor prefetto, lei è la persona giusta al posto giusto. Complimenti. Sistema Compositi. C'era una proposta che arrivava dalla Svizzera da parte di una società che opera nel settore aeronautico quindi che ha a che fare con i materiali compositi che non sono facili da lavorare. A Paliano, al sistema Compositi, c'erano delle specifiche competenze in materia. Dicono i lavoratori che ci si è fermati davanti a un cancello e ci si è fermati davanti alla burocrazia. Sì, di fatti qui abbiamo lavorato in tandem anche il prefetto e io personalmente su questa vicenda visto che poi c'era un acquirente abbastanza significativo che riassorbiva e rilanciare la società. Si è fermata di fronte a un cavillo burocratico che francamente fa ridere a ragioni i lavoratori per un passaggio, per una servitura, per quant'altro. Adesso vedremo un tantino di andare anche in profondità perché sarebbe assurdo perdere questa grande opportunità visto che è considerato che c'è un acquirente. Ma questo oltre al sistema Compositi qui dobbiamo e ci stiamo impegnando a fondo anche per quanto riguarda l'ILVA perché avere un'offerta da due società abbastanza affermate del territorio e che hanno avanzato la manifestazione di interesse forte di rilevare le due società, l'ILVA prima dismette lo stabilimento. Io sono andato già 4-5 volte lì, abbiamo coinvolto oltre anche il prefetto che si è occupato di questo, sia il ministro sia il Mise e l'altro giorno proprio quando erano una discussione all'accordo di programma sollevato anche questo problema, che prima dismette uno stabilimento perché non è produttivo oggi avanza una richiesta di 15 milioni di euro. Qui devono intervenire l'ostituzione ma a livello governativo perché non è il nostro potere. Intanto mi faccia dare una notizia, il Latina in questo momento ha segnato, è sul 2-1, mancano 6 minuti alla fine della partita che potrebbe portare per la prima volta nella storia una squadra di questi. Il passaggio successivo sarebbe la prima volta nella storia che una squadra di questo territorio, del Basso Lazio, può arrivare praticamente di fronte al cancello che se si spalancasse ci porterebbe alla Serie A. Siamo sul 2-1, mancano 6 minuti scarsi. Questa quindi è la situazione sulla sistema Compositi. Sull'ILVA addirittura due proposte di gruppi del territorio affermati, quindi assolutamente stabili, poi ILVA ci ripensa. Posso dire anche una cosa, che c'è un gruppo che conosco molto bene, che ha una tecnologia di processo e innovava all'avanguardia e che quindi qui devono intervenire sia la regione sia il governo perché deve far abbassare le pretese, perché è assurdo che una società che rileva non solo tutto lo stabile e quindi è chiaro che poi va modificata ad equato a quello che è il layout della nuova attività produttiva, ma soprattutto rileva anche 67 persone che insomma va a riassorbire quanto potrebbe prendere i ragazzi. Questa è un'opportunità che noi non possiamo assolutamente perdere, anche perché ripeto conosco le società e sono di tutto rispetto e non sono quelle richieste magari campadinarie, tanto per costruire qualche cattedrale nel deserto. Qui ci stiamo impegnando tutte le forze politiche, io e compreso il prefetto e mi auguro che questa infezione sia, voglio dire, l'ILVA, sia per quanto riguarda le sistemi composite. È un'infezione, seppure ancora lenta, di dentenza, ma dobbiamo lavorare su questo. Ho visto un altro messaggio sull'Agenzia di Formazione. L'Agenzia di Formazione, avete visto anche dai quotidiani questi giorni, io ho incontrato i sindacati, ho incontrato ieri, sono stati in Regione. È un'eccellenza del nostro territorio. Sono mille ragazzi che si formano su cinque centri. Sora, che io sono, come ho detto prima, e ringrazio chi ha mandato il messaggio, che ponco molta attenzione alle scuole perché ci tengo e tutti gli istituti, li giro tutti. E proprio ieri sera ero col prefetto all'alberghiero di Sora, l'altro giorno era a Darsk, all'alberghiero di Fiugi, l'altro giorno a Sora, a Ceccano e anche a Cassino. Così faccio con tutte le scuole. L'Agenzia di Formazione va salvaguardata perché è un'eccellenza, però io oggi mi trovo a gestire, ho coinvolto la Regione e anche i politici del territorio, i consigli regionali del territorio, che mi trovo con una gestione pregressa, dal 2004 al 2010, di circa 8 milioni e mezzo di buco. Ieri ho avuto una grande soddisfazione che il dirigente regionale diceva per la prima volta dopo un anno e mezzo, vede l'imperfetto pareggio soprattutto a tutte le rendicontazioni perché non dimentichiamo che c'erano anche dal 2004 mai rendicontate, nonostante che sono state prese società di consulenze anche molto costose, io l'ho fatto con il personale di categoria C e ho rendicontato il tutto. Mi sono fermato alla rendicontazione, anche se è pronto il 2010-2011 non la posso presentare perché manca il 2009 in quanto non sono stati pagati quelli che sono istituti come F24 e quant'altro e quindi bisogna pagare un milione di Euro anche su quello e proprio ho coinvolto tutti perché è mia intenzione salvare l'Agenzia perché sarebbe un dilitto perdere questa eccellenza per la provincia di Frosinone, tra l'altro non solo che coinvolge mille ragazzi ma soprattutto avvia il lavoro decine e decine di ragazzi in una situazione come questa, è chiaro che qui deve intervenire anche le forze politiche, deve intervenire la regione perché certamente non è colpa mia, si è stato accumulato un debito per io molto abbastanza forte. Siamo intanto in due a due, il Bari ha pareggiato. Questa è una brutta notizia, direttore però sta per finire, mancano cinque minuti, incrociamo le dita. Infatti daremo il risultato in diretta. Mi faccio chiedere al prefetto Zarrilli che quando l'abbiamo presentata, insomma abbiamo spiegato, lei ha messo in evidenza tutta una serie di doti organizzative per le quali sono stati dati spesso degli incarichi legati all'organizzazione. Cosa le fa più rabbia in questo territorio? Che ho trovato già un'organizzazione che non riesco a modificare, insomma. Vorrei annullare, azzerare e ricominciare con la mia organizzazione personale, ma devo riadattare l'organizzazione che ho trovato già nell'ufficio e soprattutto rimodulare anche il dialogo con gli enti locali che evidentemente erano abituati a una maggiore autonomia. Io cerco di dare un indirizzo unitario. Sono stata sempre in uffici centrali, poco sul territorio e al centro si fa molta attività di coordinamento. Ho sempre diretto tutti gli uffici sul territorio, le questure, le scuole di polizia, tutti gli enti sul territorio. Quindi mi viene proprio naturale il coordinamento del sistema. Allora cerco di indirizzare in modo unitario, non faccio altro che fare circolare agli enti locali, i quali evidentemente si sorprendono solo perché gli ho invitati il 2 giugno e mi hanno detto che il prefetto ci ha precettato. Invece voleva essere un invito formale, gentile, anche se spero autorevole. Infatti molti l'hanno accettato e poi hanno condiviso l'iniziativa perché anche quello significa unitarietà del territorio. Questo territorio scopro che ha mille potenzialità, giorno per giorno, lo scopro positivamente, ma sarà anche retorica. Ma se non fa rete, se non si unisce, se non lotta in modo congiunto per un obiettivo comune, non va da nessuna parte. Ognuno va per fatti suoi. Allora ci vuole forse un punto unitario. Io parlo degli enti locali, che è il mio campo specifico. Molti sindaci li conosco, ci dialogo costantemente, qualcun altro sono ancora in fase di conoscenza, qualcun altro è nuovo. Però anche vedo che loro non sono abituati a un colloquio e a una dialettica costante. Ricevo più le opposizioni dei sindaci e parlare con le opposizioni quotidianamente le assicuro che è veramente molto dura. È sfiancante. Senta, Papa Francesco in queste ore ha lanciato l'anatema contro i corrotti. Dice che andranno all'inferno. Lei è stata responsabile di decine di milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, quelli del Programma Operativo Nazionale per lo Sviluppo del Mezzogiorno, quello che si chiamava PON Sicurezza. Ha gestito tutto il programma fino alla rendicontazione finale, 2007, le biografie dicono che lei ha ricevuto il plauso di tutta la comunità europea. Ma allora è possibile maneggiare denaro pubblico senza sporcarsi le mani? No, per me è normale, è l'unica realtà che conosco. Ed è una cosa, veramente, visto che l'ha rilevato lei, il mio programma è stato l'unico a non avere nessuna eccezione da parte della Corte europea, della Corte dei Conti europea. Insomma, quindi anche nella fase di ricondazione, insomma, e avere a che fare con tutte le altre amministrazioni, comprese le pari opportunità, il Ministero del Lavoro, eccetera, che non erano avvezzi a un controllo così, devo dire, anche sferzante, insomma, come io facevo, ma soltanto dicevo per capire che poi era la realtà, insomma. Però abbiamo fatto tante attività, ma se ci stai sopra al pezzo, come si dice a Roma, insomma, sicuramente il risultato lo ottieni ed è difficile passare con un sistema di corruzione. Non ci vogliono le norme, ci vuole un sistema, ci vuole innanzitutto un cambiamento di cultura di fondo, perché più norme metti e più crei il sistema per trovare l'antinorma, insomma. Ci vuole la costanza della verifica, anche sugli enti locali. Io percepisco che su questo territorio la corruzione è forte, non si arriva alla parte finale, ma è proprio questo, insomma, è quasi un fiume in sottofondo che però è sempre più dilacante, insomma, ed è preoccupante questo sistema. Però bisogna fare un cambio di cultura e bisogna essere più sversanti dei controlli e forse dare anche più poteri ai prefetti sul territorio. Così come ha detto Cantone nella riunione ieri dei prefetti, ha detto io il secondo giorno ho chiesto al Ministro Alfano, fammi lavorare con i tuoi prefetti, perché sono l'unica garanzia che mi ritrovo sul territorio. Gli ultimi sms, 331 12 456 25, vediamo quali sono le considerazioni che avete fatto. Sono un ex dipendente del sistema Compositi e chiedo di verificare alle istituzioni presenti cosa sta accadendo su questa situazione. Ringrazio il prefetto per la sua disponibilità e velocità, ma è sola e noi abbiamo fiducia in lei. Ci aiuti. Martufello, quando ti rivediamo in tv, magari su Teleuniverso, la Mersen di Patrica chiude senza alcuna motivazione. Intervenite con urgenza e salvate 50 famiglie. Il decreto legge sulle province penalizzerà la nostra provincia proprio ora che il Presidente Patrizzi ha gettato le basi per riqualificarla. Grazie Presidente. Invito il commissario straordinario a verificare la sistema Compositi. Crediamo che non si parli solo di burocrazia ma di assurdità. Leggete l'articolo che ha pubblicato il messaggero ieri. Io perdo il lavoro e chiedo di assumere le giuste informazioni da parte delle istituzioni e sicuramente vi arrabbierete con qualcuno che sta perdendo del tempo prezioso. Grazie e intervenite con la determinazione del Prefetto. Ma del Consorzio Acquedotti degli Aurunci. Nessuno ne vuole proprio parlare. Come mai forse non fanno notizie e debiti che verremo a pagare dopo che paghiamo l'acqua come se fosse birra? Grazie ai nostri amministratori. Prima di dare risposta a queste domande Martufello. Però devo dire una cosa. Proponevano una trasmissione sul teleuniverso. Sì sì adesso la rispondo. Io invece voglio proporre un'altra cosa subito subito. Il bagaglino al Nestor di Frosinone. Perché non lo riproponiamo? Lei mi ruba la domanda perché io a questo volevo arrivare. C'è un'unitaria di pensiero. Ci sono sul territorio le potenzialità. I teatri stanno rifiorendo anche in provincia. Non dico tutte le settimane o tutte le sere come era il bagaglino a Roma. Ma una volta al mese si potrebbe portare i personaggi che Martufello porterà per il suo quarantennale a Sezza. sono personaggi che potrebbero tranquillamente riempire un intero cartellone. Potrebbero rifare tranquillamente il bagaglino al Nestor di Frosinone o anche al Manzoni di Frosinone. Però per il bagaglino diciamo mai dire mai. Mai dire mai. E non aggiungo altro. Io invece devo fare i complimenti a loro che dagli sms che vedo, io di solito capito in qualche trasmissione dove magari ci sono i politici. E qui ci avete quasi tutti a favore. Insomma dovreste essere contenti per questo. Io ho visto sui 10, 15 messaggi. Insomma sono tutti a favore. Dopo 5 mesi che sono qua. È un segno che state lavorando bene. Complimenti. Intanto c'è il risultato finale. 2 a 2 per il Latina. Il Latina si gioca la Serie A domenica contro il Cesena. Adesso devo rispondere a questa domanda che mi ha fatto quella che io è mezz'ora che cerco. La Scaramanzia non ha risposto. No, ma no. Io quando il Frosinone tutti sanno quando io sono legato a questo territorio. Certo. Alla provincia. Lo sanno tutti quindi non devo ancora dire. Anche perché orbiti spesso nella provincia. Ma parte questo lavoro, sei una vita che faccio più serata di qua che neanche. E quindi quando il Frosinone è venuto in Serie B ho detto è in ritardo di 10 anni. E ho tifato Frosinone e tifo sempre Frosinone. Certamente io sono della provincia di Latina. Come posso non gioire se Latina va in Serie A? Certo. E se rimane in Serie B, fa mai i corna, spiega, va in Serie A. Quando c'è il derby io dico la mia squadra che è la Roma. Intanto vedo che stanno continuando ad arrivare i messaggi. Eventualmente li lasciamo poi scorrere e li lasciamo scorrere prima del finale di trasmissione. Anche così diamo soddisfazione ai nostri telespettatori. Commissario, c'è chi in pratica continua a chiedere del consorzio a quei dotti degli aurunci. In fase di liquidazione questi debiti non vengono pagati. Forse su questo devo rispondere. Devo dire due cose che non abbiamo toccato. O ci mettiamo in testa di un'inversione di tendenza, perché io le faccio solo una strippata, direttore, ma anche ai cittadini. Aeroporto di Frosinone, 4 milioni e 6 spesi solo in progettazione. Ho avuto il coraggio di liquidarle, di mettere a liquidazione, perché è assurdo in una situazione come questa. Abbiamo parlato della multiservizi, non è colpa dei lavoratori. Abbiamo parlato dell'agenzia di formazione. Vogliamo parlare della torsale appenninica, che nel 2001, 7 milioni di Euro spesi 5, c'è uno scarabile di chiaia? Faccio una domanda. E così dica sia anche del consorzio degli aurunci. Così dica sia anche tutto il lavoro che stiamo facendo su Acea. Parliamone di questo. Perché il vero chi ha contrastato veramente la Acea senza abbaiare al lupo, alla luna, è stato questa amministrazione, grazie ai sindaci, grazie agli 86 sindaci, grazie ai 10 sindaci che compongono la consulta, perché finalmente siamo riusciti a stabilire i tariffi e presenteremo nei prossimi giorni 62 milioni di Euro dopo 10 anni di piano d'ambito. Sono lavori che si fanno sulle foglie e sulle condotte dell'acqua. Uno migliora la qualità del servizio, miglioriamo i depuratori, miglioriamo le foglie, perché i depuratori poi noi dobbiamo tenere anche all'ambiente e sono due giorni che partecipo sui studi inquinati e quant'altro che stiamo facendo un bel lavoro e non a caso ho istituito per la prima volta, la prima in Italia, anche la pulizia provinciale, ambientale e che tutti i giorni è in giro sui controlli. Forse è la prima provincia d'Italia. Voglio dire, però noi dobbiamo, sulla CEA per la prima volta non solo migliorare la qualità del servizio, ma c'è anche un ritorno tangibile anche di lavori sul nostro territorio, perché lavoreranno i traulici, lavorano i mezzi di scavatori e quant'altro, perché sono 62 milioni di Euro. presenteremo nel giro di 7-8 giorni, è finito, giovedì, domani c'è la consulta d'ambito, perché il primo passaggio è consulta, dopodiché confocheremo l'autorità d'ambito, stabiliremo le tariffe del 2014-2016, ma lo voglio dire ai cittadini, le tariffe non le stabiliamo più noi, bisogna chiarire, bisogna dire la verità alla gente, le tariffe vengono stabilite in base agli investimenti, calcolando un parametro TETA che è un calcolo matematico e poi si sottopongono all'autorità per l'energia, ma se non lo fanno i sindaci che noi ci mettiamo al minimo sindacale, visto quando abbiamo fatto il 2012-2013, noi ci siamo messi a 1,44 o 1,54, non è che ci siamo inventati 1,44 o 1,54, è il minimo sindacale, il massimo è 1,80, ovviamente il gestore chiede 1,80, nasce un contraddittorio l'autorità d'ambito, i sindaci deliberano 1,44, il gestore 1,90 come minimo, domani alle 3 posso dire che c'è l'ordinio della consulta, dopo stabiliremo le tariffe del 2014-2015 e soprattutto presenteremo un piano d'ambito di 62 milioni di euro, ma da bene lo voglio dire ai cittadini, dopo 10 anni. Dopo 10 anni di attesa, sul consorzio Acquedotti degli Aurunci pure il prefetto aveva qualcosa da dire? Sembra che la competenza sia del prefetto, che non esiste invece, non esiste alcuna competenza perché ricade nell'ambito della regione, ribadisco questo concetto, però il mio predecessore ha firmato un decreto in cui ha nominato una commissione per la soluzione di questo problema, perché se qualcun altro non interviene, alla fine il prefetto che è un generalista deve operare in qualche modo, però è impensabile che si possono pagare dei debiti che risalgono, che sono accumulati dal 1934 e che se i comuni dovessero pagare questi debiti vanno in distenso finanziario, ragion per cui qui l'unica possibilità, l'unica cosa da fare è applicare una norma nuova, sono stata al primo incontro che ha avuto il Presidente Zingaretti e ho affrontato questo problema, quindi la cosa è un problema tavico che va risolto o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalla Regione Lazio con la norma DOC, quindi i debiti sono incalcolabili, ma più si va avanti, ho fatto delle apposite riunioni al Ministero dell'Interno perché sono stata l'unica a dire non rientra nella mia competenza affrontate il problema chi di dovere, perché non amo i problemi insoluti e i problemi risolti, quindi sono andata, la competenza non è mia, ribadisco il concetto, ma sono pronta a affrontare ancora i problemi e a parlare quotidianamente di un problema che è lungo, vecchio, atavico, dal 1934, devo sentirmi raccontare la storia quando io sono solo qua da 4 mesi, però sono l'unica che l'ha portato sui tavoli ministeriali e già mi hanno chiesto una proroga della Commissione che finirà il proprio compito a dicembre, mi rifiuto di fare la proroga di quella Commissione perché non è pensabile che dal mese di maggio aprile, già mi chiedono una proroga di una cosa che dovrà finire a dicembre, è impensabile, non lo farò mai, lo dichiaro apertamente. Io concludo con dei messaggi che nel frattempo sono arrivati, vi chiediamo di bloccare la cassa integrazione straordinaria sul trasporto pubblico locale che la Regione concede, ma se è un servizio pagato dalla Regione come si fa a pagare due volte la stessa cosa? Il contratto nazionale non lo prevede. Grazie Patrizzi per le visite ai centri per ragazzi in difficoltà e per l'aiuto morale e materiale, un ringraziamento al prefetto dottoressa Zarrilli per la disponibilità e l'attenzione che presta tempestivamente alla risoluzione dei tanti problemi che attanagliano il nostro territorio, lavoro, ambiente e altro ancora, firmato un'amministratrice che l'ha disturbata alla vigilia di Pasqua. Chiudiamo con un sorriso, Martufello, un sorriso e invitando la gente a Sezze alla festa dei 40 anni, aperta a tutti, festa dei 40 anni di spettacolo. 40 anni di risata intitolata, questa serata l'11 luglio allo stadio comunale di Sezze, ingresso libero, ci sono tanti miei colleghi che si esibiscono, Presidente Vincitore con Pamela Prati e poi vengono tanti altri ospiti. Ma Patrizzi lo invita a interpretare l'Olanda, lui è l'Olanda, gli metti in casco una motorella è fatta, ed è lui, è quello che è in Francia che in realtà è Patrizzi. Ma certo, così la moglie stasera ammazza. Noi ci fermiamo qui, è la 158esima puntata per questa stagione, chiudiamo la nostra porta ma a fine estate torniamo puntuali con un altro ciclo di A Porte Aperte. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi a casa, arrivederci. Buonasera, direttore.